Iniziamo invece nel merito a riprendere l'esercizio che avevamo iniziato giovedì scorso, relativo al modello concettuale che avevamo tratto prendendo spunto dal tema d'esame di giugno 2014. Per richiamare la memoria avevamo già definito abbastanza con buon dettaglio le entità principali, c'è un docente che prepara un compito, il compito è composto da una serie di domande, ciascuna domanda è costituita da cinque possibili risposte di cui una è la risposta esatta. Quindi questo per quanto riguarda la preparazione di questi quiz siamo già a buon punto poi possiamo andare a rivedere, non ho dimenticato qualche attributo o qualche altro dettaglio ma direi che il grosso c'è. Ciò che ci rimane da fare è la parte se vogliamo lato studente. Lato studente, andiamo per rinfrescarci la memoria se volete a rileggere cosa diceva il testo, dice che gli studenti si autenticano presso il sistema, poi vengono sottoposte le domande presenti nel compito e le attive possibili risposte. Per ciascuna domanda gli studenti possono scegliere la risposta che ritengono corretta. Quindi in qualche modo il sistema deve sapere, ricordarsi che cosa ha risposto lo studente. Poi vediamo come modellarlo. Ad ogni passo è possibile rivedere e eventualmente correggere le risposte precedenti e questo è solamente un modo con cui questa risposta viene gestita. Qui c'è scritto che la risposta può essere data la prima volta e poi può essere modificata eventualmente. Ma dal punto di vista concettuale ciò che ci interessa è che questa risposta è un'entità che dobbiamo gestire. Alla fine il sistema che ti conferma memorizza definitivamente le risposte dello studente. Parla sempre delle risposte, sempre della stessa cosa, sta dicendo cose diverse che succedono alla risposta. Queste cose fanno parte del processo, dell'evoluzione di questi dati, ma a livello di concetto, di modello concettuale, ciò che ci interessa è sapere qual è l'informazione che dobbiamo gestire. E poi, quindi qui abbiamo qualche cosa che, in cui diciamolo con parole semplici, dobbiamo in qualche modo ricordarci quale risposte sono state date da ciascuno studente a ciascuna domanda, come minimo. E poi parla di valutazione. Il docente richiede la valutazione che consiste nel calcolare il voto complessivo tenendo conto delle risposte corrette e del peso relativo alle domande. Quindi visualizza i risultati degli studenti mostrando la distribuzione complessiva dei voti e poi può modificare i pesi. Poi parla di esiti dell'esame, che probabilmente sono la stessa cosa della valutazione, cioè il voto complessivo ottenuto da ciascuno studente. Questo è un pochino più complicato perché questo concetto di valutazione è un concetto dinamico, cioè varia a seconda delle domande, varia a seconda dei pesi, può essere ricalcolato, sarà un pochino più difficile da modellare. Le risposte però, date dagli studenti, a noi mancano. Non l'avevamo pensato. Noi avevamo questo concetto risposta, che si chiama risposta, ma per noi è una delle possibili risposte presenti sul quiz. Diverso è dalla risposta fornita dello studente. Quindi ci siamo già accorti e non avremmo mai scommesso di aver dimenticato dei pezzi nel modello concettuale. Ci manca un concetto importante che è la risposta data. Risposta fornita, chiamiamola come vogliamo. Fornita. Che è diverso della risposta possibile. La risposta fornita è che cos'è? L'effettiva risposta data da uno studente ad una delle domande che gli sono state presentate. Domande, non lo sto a ripetere, perché c'è già scritto prima, che fanno parte di un certo compito. E' quella sulla base del quale poi viene dato il voto. La risposta fornita corrisponde alla risposta corretta, sì o no. Allora, che relazione, che cos'è? Come la rappresento? Detto così, la risposta fornita è quella scelta dallo studente risposta a una certa domanda. provo a disegnarlo, poi vi chiedo se secondo voi va bene. È sufficiente che io faccia questo? Fornisce risposta. La studente, facciamo spazio sullo schermo, fornisce una risposta? È una relazione, quindi io sto ipotizzando, no? Proviamo a vedere se funziona. L'informazione delle risposte che voi avete dato, la modello come relazione tra lo studente e la risposta. Eh, boh, lo stiamo cercando di capire, se è sufficiente una relazione oppure serve a una classe esplicita, un concetto esplicito. Allora, qui siamo in un caso semplice, semplificato. Chiediamoci innanzitutto, c'è tutta l'informazione che ci serve? Lo studente sono io. Se io vado a analizzare, quindi lo studente, immaginiamoci tanti studenti lì dentro, dentro quella classe, ci esprimiamone uno, io, e dalla mia puntino che rappresenta me come studente, dalla mia istanza, partono tante relazioni che all'altro capo troveranno delle risposte. Come molteplicità, questa molteplicità dovrà essere per forza n, asterisco, perché io fornirò molte risposte, non una sola. Fornirò molte risposte a domande diverse che mi vengono proposte nel contesto dello stesso compito o anche in compiti diversi. Allora, questa informazione, nel fatto che questa risposta è fornita nel contesto di quella domanda e di quell'appello e non di un altro, è un'informazione importante. La possiamo ricavare? Solo sapendo che studente 54.900, che era la mia matricola, ha risposto, ha fornito la risposta, che avrà un identificativo, 1.001, diciamo, mi è sufficiente o mi serve informazione in più. Allora, andiamo a vedere. La risposta 1.1001 è in relazione univoca con una domanda. Questo l'avevamo deciso la settimana scorsa. Avevamo deciso che non riusiamo le risposte, che se il docente fa tante domande o docenti diversi, fanno domande diverse, in cui magari coincide la risposta, come stringa, magari la risposta è sì, no. Quel sì in risposta alla domanda 1 e il sì in risposta alla domanda 27 li rappresentiamo come entità diverse. Questo è ciò che abbiamo deciso qui. Da cosa lo capisco? Lo capisco da questo 1. una determinata istanza di risposta, che dentro contiene una stringa, può essere messa in relazione con una sola domanda, è figlia di una sola domanda. Per cui se ci sono due domande, tra le quali esiste sì come risposta, queste due risposte possibili delle due domande saranno rappresentate da due istanze distinte e diverse dell'entità risposta. Istanze distinte ma ovviamente con la stessa stringa, col valore della proprietà testo diverso. Quindi oggetti diversi, distinti, separati, che poi diciamo che coincidono come valore o hanno dei campi di valore uguale. Però abituiamoci a non pensare che due oggetti sono uguali se hanno le proprietà uguali. Due oggetti sono uguali, distinti e questa è la loro natura. Poi le loro proprietà dipende che cosa vogliono rappresentare. Noi avevamo deciso così. Quindi questo 1 fa sì che se io conosco, non il testo della risposta, non che lui mi abbia detto sì, ma che mi abbia fornito la risposta 1.001, come dicevamo prima, allora questa risposta è associata per forza a una sola domanda e quindi riesco a risalire alla domanda. E conoscendo la domanda vado a vedere il compito. Anche qui ho un 1. Muovo il mouse perché rimane anche nella registrazione. Anche qui ho un 1. Il che vuol dire che avevamo deciso per altri motivi di non riusare le domande, nel senso che ogni domanda apparteneva a un compito solo e nel compito successivo non poteva andare a ripescare domande vecchie. Questa era una decisione che se ricordate avevamo preso ragionando sulla proprietà peso, dicendo ma il peso di una domanda, visto che è associato alla domanda, deve in qualche modo essere legato al compito. La stessa domanda in compiti diversi deve poter avere pesi diversi e quindi non è possibile che lo stesso oggetto domanda con un suo peso possa essere associato a compiti diversi. Questo è il ragionamento che facevamo la settimana scorsa. E quel ragionamento ci aveva portato a decidere uno qua. Questo 1 ha anche la conseguenza che data una domanda è univoco sapere qual è il compito nel quale è stata posta. Quindi se uno mi dice ho risposto alla domanda, ho fornito la risposta, no non ho risposto alla domanda, ho fornito la risposta a 1.001, so anche a quale domanda apparteneva a quella risposta e a quale appello, a quale compito, a quale prova, a quale data. Quindi ho essenzialmente tutto ciò che mi serve. Chiaro? Sembra fragile eh? C'è un filo sottile che lega i dati. Se questo filo lo rompo da qualche parte ho perso tutto. Però ho l'informazione rappresentata in modo completo, univoco, senza duplicazione di informazioni e coerente ovviamente con le scelte che avevo fatto prima. Quindi questo può essere sufficiente. Quindi questa è una modellazione che a me soddisferebbe. Proviamo però, avevo detto, eravamo in un caso semplice, proviamo a complicarci un pelino la situazione, anche artificiosamente. Quindi adesso apriamo una parentesi, vado a modificare il modello e poi torniamo su questo. Ok? Per vedere come si ragionerebbe in un caso più complesso. Noi abbiamo detto che questo va bene per una serie di, lo salvo, per una serie di motivi. Ma se avessimo deciso che questo qui non era 1 ma doveva essere molteplice, ad esempio, 1 asterisco, ok? Variante tra parentesi dell'esercizio. e cosa sarebbe successo? Che l'informazione non sarebbe più stata univoca. Questo è un contesto diverso, magari togliamo il peso, non guardiamolo, no? In cui il docente si costruisce un pool di domande e poi queste domande le va a pescare in tempi diversi per comporre i compiti. Quindi un compito è composto da molte domande, ciascuna domanda però può essere utilizzata in più compiti diversi. È un caso diverso, diverso da quello che avevamo analizzato la settimana scorsa. Allora, in questo caso questa relazione diventa un po' troppo debole. Perché io so che tu hai risposto alla domanda 1001, ma questa domanda, scusa, alla risposta 1001, la risposta 1001 appartiene a una domanda sola. Ma quella domanda è stata usata sei volte, in sei appelli diversi. Allora, ragionando al contrario, quando io devo darti il voto, devo dare i voti dell'appello di ieri mattina o delle informazioni che non sono più univoche. Perché cosa succede? Succede che io dal compito, proviamo a fare il percorso inverso. Quali sono i voti dell'esame che si è tenuto ieri? Allora, io so l'esame, perché la data è ieri. Questo esame so di quali domande è composto. Queste domande so che risposte hanno e so anche che risposte hanno dato gli studenti. però c'è il rischio che io prendi uno studente che abbia fatto l'esame ieri ma l'abbia fatto anche l'anno scorso e nell'appello che ha fatto l'anno scorso c'era la stessa domanda, fortunato lui, che si è beccato anche ieri. Io come faccio a distinguere la risposta che ha dato ieri da quella che ha dato l'anno scorso. Perché in entrambi i casi troverai una risposta che ha dato l'anno scorso fornita da studente e una risposta che ha dato ieri fornita da studente. Io riuscirei ad escludere le eventuali risposte che lui ha dato in passato in risposta a domande diverse, cioè che non sono presenti nel compito di ieri. Questo lo posso escludere. ma domande che sono ripetute, visto che ho permesso la domanda di ripetersi, dovrei riuscire a distinguere se quella risposta ha dato ieri o non ha dato ieri. In questo caso non è sufficiente una relazione di questo genere per avere tutta l'informazione che mi serve. L'informazione sarebbe lo studente ha risposto a questa risposta in uno degli appelli in cui è capitata quella domanda. Quindi non mi basta. Allora cosa potrei fare in questo caso? Dovrei avere dell'informazione aggiuntiva per distinguere le varie occasioni, i vari appelli in cui lo studente ha fornito quella risposta. Dovrei associare, qualcuno potrebbe pensare, lo dico io per non farlo dire a voi perché è sbagliato, la data. Ah, ma se io riuscissi a mettere in qualche modo la data qui, allora le distinguo. No, non la data. Sarebbe sbagliato. Perché cadremmo di nuovo nell'errore di andare a confrontare dei campi valori di attributi. È il compito che mi interessa, non la data. Perché nessuno mi dice che in quella data lì non ci siano 27 compiti diversi, tutto il stesso giorno, perché sai che gli appelli ve li mettono così, per robustirvi. No, la data non è di per sé identificativa del compito. Ma come faccio a dire che lo studente le relazioni che abbiamo imparato sono relazioni tra due, tra studente e risposta. In realtà quello a cui stiamo arrivando è, no, in realtà mi servirebbe una relazione che lega lo studente alla risposta ma anche al compito. Allora, in questo caso vuol dire che noi stiamo pensando alla risposta fornita come un'entità a sé stante, non più solo come una relazione. quindi questa modellazione non mi basta più e dovrei pensare... dove sono le concine? Chi me le ha prese? Ah no, sono qua sotto, scusate. Risposta fornita come una vera e propria entità del modello. Un concetto, seppur astratto, perché l'atto di fare la crocetta in un certo punto, che però è un concetto indipendente in quanto esso stesso gode di relazioni con gli altri concetti. È più strutturato che non semplicemente sapere che tu hai dato una risposta. Perché vuoi sapere quando, vuoi sapere dove... Quindi l'atto del rispondere è un atto che è collegato ad altri concetti. Dimmi. Proviamo a vedere, prima di fare quello che volevo fare io, facciamo ciò che vuole fare il vostro compagno. Il vostro compagno, se ho capito bene, vuole fare questo. La disegno è storta, così si capisce che è sbagliata. No. Lei dice, giustamente, recupero l'informazione che questa risposta è stata fornita in un determinato compito, attraverso una relazione aggiuntiva tra studente e compito. Però questo non ti risolve il problema, perché ti dice che quello studente ha sostenuto il compito ieri. Poi avrai una seconda istanza di questa relazione che dice che quello studente, lo stesso studente, ha sostenuto anche l'appello dell'anno scorso. Ma quale risposta ha dato ieri e quale invece l'aveva dato l'anno scorso? Questo non ce l'hai. Ok? Il fatto che prendi un oggetto con la mano sinistra e un oggetto con la mano destra non vuol dire che i due oggetti che prendi siano collegati. Io sono in relazione con questo, sono in relazione con quell'altro, ma non esiste un... non possiamo esprimere qualcosa come una relazione simultanea di questo e di quell'altro insieme. Per farlo ho bisogno di appoggiarmi su qualche cosa che abbia... che sia prostrutturato, come... qui ho chiamato un'entità risposta fornita che mi fa da ambasciatore, che è collegato lui sì con studente, lui sì con compito, lui o lei scusate risposta femminile, con compito e anche con risposta. adesso ragioniamo sulle cardinalità. Vuol dire che lo studente fornisce una risposta che è questa per quell'appello. Se l'anno scorso aveva già fornito una risposta alla stessa domanda, risposta uguale o diversa non importa, ma per un appello diverso, avremmo una istanza diversa di questo oggetto che è legata allo stesso studente, magari alla stessa risposta, ma un compito diverso. Quindi a quel punto per rispondere alla domanda di prima, ma cosa hai risposto alle domande che ti ho fatto ieri, parto da compito, non passo da domanda a risposta, ma passo da risposta fornita e scendo giù su risposta. Per quello studente. Quindi dobbiamo sempre farci queste camminate sulle relazioni, farci una serie di domande, poi la settimana prossima le faremo anche in modo più strutturato queste cose, chiederci, ma io partendo da questa informazione riesco a avere quell'altra? Partiamo anche dal testo. Il testo ci chiede certe cose, siamo sicuri che il nostro modello non solo ci soddisfi dal punto di vista concettuale, è bello, ordinato, ma sia sufficiente per supportare le richieste di informazione che poi l'applicazione dovrà fare. Allora, in questo caso, le relazioni dovranno essere sicuramente con molteplicità univoca ai vari capi, se no ricadiamo di nuovo nel problema. Dai, fai bravo. Uno. Uno. Cioè, lato risposta fornita, quella risposta è la risposta di quello studente, è quella risposta di quello studente a quel compito. È un uno secco. Non è opzionale, non è molteplice. Forse molteplici non avremmo risolto il problema. Sapremmo che è una delle risposte che ha dato in uno degli appelli, tanto vale, lo sapevamo già prima. Quindi in questo caso abbiamo bisogno di un'entità. Quindi, in funzione della complessità del modello, e qui rispondo anche a quello che mi ha detto qualcuno da questo lato qui prima, a volte è sufficiente una relazione, a volte è necessaria un'entità, e questo lo si ragiona essenzialmente sulla base delle relazioni. Relazioni più complesse richiedono un modello più complesso, che abbia una struttura più articolata. Lato inverso. Allora, siamo convinti tutti che le molteplicità su questo lato debbano essere tutte uno? Cioè, la risposta fornita è l'atto con cui, l'informazione relativa all'atto con cui quello studente fornisce, sceglie una risposta a una determinata domanda in un certo appello. Quindi lo studente deve essere certo, non è che metto la crocetta io e in realtà viene contata come fosse del mio compagno. La risposta deve essere certa, non è che quel giorno a quella domanda, in quell'appello ho dato più risposte. Allora, no? E il compito anche deve essere, l'appello deve essere certo, anzi era il motivo per cui è nato tutto. Quindi voi immaginatevi che man mano che voi rispondete al quiz si creano nuove istanze di risposta fornita. Tutto il resto non cambia, no? È statico il modello. Ma man mano che voi rispondete, questa risposta fornita si popola di tante nuove istanze. Ciascuna che dice una risposta che è stata fornita. Quelle istanze se pensiamo al singolo studente avranno tutte, saranno tutte in relazione con voi, con il compito di oggi e con le varie risposte cambieranno. Però non è una sola istanza che ha tante risposte ma sono tante risposte diverse ciascuna collegata a una certa risposta. Le cardinalità inverse lo studente quante risposte fornite ha? Possiede? Potenzialmente molte. No? Tutte le risposte, anzi a tutte le domande del quiz di oggi più di tutti gli altri quiz. Quindi su questo lato qui di cardinalità abbiamo una cardinalità libera. Metto anche lo zero perché magari se per iscritto poverino non ho ancora risposto a niente. Ok? Partendo da un compito quante risposte fornite troverò associate a quel compito? Anche qui molte. perché sono tutti gli studenti che avranno dato quella risposta lì. Quindi tutte le coppie studente risposta. E quindi anche qua una cardinalità libera. Questo è me lo metto zero sterisco. e la relazione di sotto per una determinata risposta quante volte questa è stata una risposta fornita di un certo studente? Cioè quella giusta speriamo tante. però potenzialmente non ci sono vincoli. Una risposta può essere talmente sballata che non ha scelta nessuno oppure bellissima e non ha scelta tutti. E magari anche giusta oltre che bella. E allora se il mouse mi assiste perché non devo cliccare sull'n? Ok. Quindi non ho vincoli sulla cardinalità inversa. Quali attributi ha questa risposta fornita? Ma al momento non ce ne sembra necessario nessuno. Cioè questa è un'entità che non serve per rappresentare informazioni sue ma serve per tenere insieme informazioni di altri. se volessimo io potrei immaginarmi qualche attributo qua dentro tipo la data è ora se mi interessa sapere in quali istanti di tempo fa ma ma magari anche no. Domanda su questo modello se qualcuno mi chiedesse ma quello studente cosa ha risposto alla domanda 5? Sono capace a dirlo? a parte lo studente avrà un mucchio gigante questa molteplicità di risposte fornite queste risposte fornite magari considero solamente quelle relative al compito di oggi quindi questa molteplicità 1 mi aiuta a filtrare l'insieme di tutte le istanze risposte fornite lo riduco a quelle che sono in relazione col compito avendo un 1 posso bloccarlo altrimenti no e quindi ho tutte le risposte fornite relative al compito di oggi poi lui mi ha chiesto alla domanda 5 io non ho una relazione tra risposte e domanda ho tante risposte fornite però visto che c'è una univocità di associazione tra risposte e domanda una sola sarà relativa alla domanda 5 e quindi vado a vedere quindi avrò tante risposte di tutte le risposte le butterò via tutte tranne una che è quella che è in relazione con la domanda 5 il problema è sempre quello hai tante informazioni ma devi essere sicuro di riuscire a ridurle a quella che ti serve e non lasciare le relazioni troppo libere perché altrimenti hai tutte le coppie queste sono le cose che quando facevate base di dati le chiamavate join tutto che eravamo su un livello molto più basso più operativo qui siamo a livello concettuale stiamo pensando di come strutturare le informazioni in modo da essere sicuri di poi trovarle ok allora fatemi salvare questa cosa con un nome variante e tornare alla versione precedente che era quella invece più pertinente al nostro testo poi vedremo minuto l'esercizio c'è una via ancora una terza via o facciamo una o è sufficiente una redazione o è necessaria una nuova classe impareremo una via di mezzo che si chiama association class cioè classe legata a un'associazione che è una via di mezzo come potere espressivo tra queste due ma non complichiamo le vite ancora per ora allora in questo momento abbiamo detto studente fornisce risposta vediamo le cardinalità allora uno studente potrà fornire ovviamente molte risposte e una determinata risposta potrà essere fornita anche da molti studenti quindi siamo tornati nel modello precedente ci manca ancora un dettaglio secondo me lato studente poi passiamo alla valutazione dove è andato il docente deve inserire nel sistema l'elenco degli studenti prenotati per l'esame questa non l'abbiamo ancora letta cioè non è ancora considerata questa frase cioè deve essere nota l'informazione di chi fa il stappello di quali sono gli studenti il docente deve inserire l'elenco degli studenti prenotati come lo rappresentiamo qui? quindi abbiamo un concetto di prenotazione cerchiamo di capire questo concetto se è un concetto se è stante se è una relazione tra concetti esistenti oppure se è una relazione che richiede una classe per poter essere mediata perché è complessa la versione più semplice è una relazione tra studente e compito questa relazione che possiamo chiamare iscritto a iscritto un compito avrà tanti studenti iscritti e uno studente negli anni potrà essere iscritto a più compiti adesso uno asterisco zero asterisco bisogna consideriamo il fatto che è appena stato inserito allora nella frase del testo compare una parola che ci può ingannare ma non è una parola ingannevole il docente inserisce l'elenco degli studenti per l'esame è una frase che sembra mettere in relazione tre concetti lo studente docente all'esame allora quello che capita di vedere spesso nei compiti è una relazione docente inserisce studente quella è un'azione che il docente inserisce allo studente dovrà avere un'interfaccia per farlo dovrà avere un certo momento nel flusso operativo in cui lo deve fare e poi deve bloccare e consolidare ma alla fine l'informazione che rimane a valle dell'azione di inserire è che lo studente è stato inserito da chi il docente per un certo compito è unico quindi per forza è lui non mi serve andare a ridondare l'informazione cioè se io mettessi ancora una relazione tra docente e studente avrei una un'informazione in più che duplica un'informazione che già posso reperire in modo univoco cioè il fatto che lo studente si è iscritto al compito il compito è un docente solo e quindi chi vuoi mai che l'abbia scritto quel docente lì se io aggiungo una relazione in cui dico ma il docente chiamiamola iscrive non riesco mai a farlo iscrive innanzitutto è un'informazione che magari non mi serve ma poi c'è un rischio ogni volta che la stessa informazione è presente in due punti diversi in due modi diversi è rappresentata due volte perché il fatto che uno studente sia stato iscritto da un certo docente lo posso reperire sia navigando questa relazione iscrive da docente verso studente sia navigando iscritto e poi andando a vedere quindi sapendo qual è il compito a cui sono iscritto andando a vedere il docente di quel compito quindi ho due modi diversi per rispondere alla domanda dato uno studente chi è il docente che l'ha iscritto vuol dire che potenzialmente questi due modi diversi possono portare a risultati diversi chiaramente se c'è stato qualche baco nel sistema qualche errore cioè ho un modello informativo che essendo ridondante e quindi la stessa cosa la scrivo in due posti diversi e c'è sempre la possibilità che uno dei due sia diverso dall'altro perché magari è stato modificato il primo e ci si è dimenticati di aggiornare il secondo quindi noi dobbiamo combattere il più possibile per avere l'unicità del dato il dato si trova in un posto solo quell'informazione è ottenibile in quel modo ogni ridondanza dell'informazione è un rischio che l'informazione poi sia corrotta non sia non più coerente col passare del tempo a seguito dei bacchi nel sistema eccetera eccetera cioè noi diciamo quella relazione stiamo ci stiamo impegnando a che in futuro tutti gli sviluppatori che scriveranno software che usa questo sistema con questo database alla fine facciano la cosa giusta e quindi quando aggiornano una relazione aggiornino anche l'altra sempre se io invece non ho questa relazione ti impedisco di sbagliare c'è un modello in cui le informazioni le posso rappresentare una volta sola magari sono sbagliate perché c'è comunque qualche baco ma sono coerenti quindi noi stiamo sempre tra sul filo del rasoio da un lato ho un modello insufficiente cioè non ho abbastanza informazione per rispondere alle domande che mi servono dall'altro rischio di avere un modello sovrabbondante ho le stesse informazioni rappresentate più volte e quindi con il rischio di essere incoerente noi dobbiamo trovare la sottile linea che divide questi due mondi e modellare tenendo presente questi due rischi non c'è un modo solo non c'è una soluzione sola però in ogni caso dobbiamo sempre farci queste domande questa informazione è essenziale non era uno dice ma allora scusami me l'hai menata tanto ma perché fai questa relazione iscritto che ci posso arrivare da risposta al compito e quindi al docente lo ridico più lentamente abbiamo giunto una relazione studente iscritto a compito che ci serve per capire chiaramente a quelli appelli hai partecipato e indirettamente anche quali sono i docenti che ti hanno iscritto però guardando questo modello uno potrebbe dire ma attenzione che io se ho lo studente andando a vedere quale risposte hai fornito e quindi quali domande appartenevano e quindi a quali compiti erano state queste domande è un'informazione che ho già allora questa relazione qui non mi serve faccio un giro un po' storto ma alla fine ci arrivo con l'informazione no nel senso che dopo che tu mi hai fornito le risposte al quiz è ovvio che hai iscritto al quiz ma prima di aver fornito la prima risposta come faccio a sapere se sei iscritto o no? di più come faccio a decidere se farti entrare o no nel quiz? cioè anche noi dobbiamo il modello concettuale è una cosa statica ma noi dobbiamo vederlo anche in evoluzione è vero che quell'informazione c'è ma c'è un istante di tempo in cui il quiz non è ancora stato fatto le risposte non le ho ancora date ma in quel momento quando il quiz comincia io devo sapere chi far entrare e chi no quindi l'informazione che si è stato iscritto è un'informazione che mi serve prima che il test cominci se vogliamo dirlo brutalmente poi una volta che hai cominciato io ti faccio entrare e facendoti entrare ti permetto di fornire delle risposte che speriamo siano tutte risposte collegate allo stesso compito in cui sei entrato allora qui ho una duplicazione di informazione sì nel senso che ci posso arrivare a due cammini diversi ma mi sembra inevitabile perché la seconda informazione in una fase iniziale non è ancora disponibile qui c'è da sperare che chi scrive il software non mi permette di dare risposte a domande che non sono del compito di oggi a cui mi sono iscritto questo è il problema di correttezza del codice quindi sì va bene il concetto attraversiamo pure questa relazione però ci sono dei momenti in cui questa relazione non è ancora popolata non contiene ancora dei dati e allora quell'informazione di iscrizione mi serve fare queste cose sicuramente vi porta a fare una convenzione con chi vende aspirine per il mal di testa perché però è così nel senso che bisogna andare a ragionare su tutte le sfumature di che cosa sto rappresentando e come queste informazioni verranno utilizzate cosa è essenziale da rappresentare cosa è sovrabbondante veniamo al c'è una domanda su questa parte o andiamo a vedere la valutazione vediamo la valutazione cosa dice il testo è un po' sibillino allora vediamo durante l'esame i studenti si autenticano verso il sistema quindi vorrei dire che l'utente da qualche parte avrà anche la password per poter entrare ma non lo stiamo modellando qua di solito la parte di autenticazione la diamo per scontato però dovremmo mettere tutte le volte login, password in tutti lo vediamo poi questa parte qua di chi può collegarsi al sistema la vedremo in un altro tipo di modello che non è un modello concettuale ma un modello di casi d'uso in cui definiremo gli attori che possono collegarsi al sistema quindi i vari ruoli e lì faremo la distinzione tra studente come attore e studente come dato qui questo studente non è la persona che sta usando il sistema per dare l'esame ma sono i dati le informazioni che il sistema ha a proposito di quella persona il fatto che ci sia un concetto studente in generale non per questo esempio è indipendente dal fatto che il sistema informativo al sistema informativo si possa collegare uno studente oppure no io posso collegarmi al sistema informativo i quali magari non hanno dati su di me quindi non hanno una tabella che rappresenta a me come utente che ne so devo pagare l'imu allora vado sul sistema informativo del comune metto i dati di catastale e mi fa il calcolo io sono un utente ma non c'è nessuna tabella che dice chi sono io in quel sistema informativo lì ci saranno tutte le tabelle con i dati catastali le aliquote tutte quelle varie menate oppure viceversa poi c'è un sistema che raccoglie dei dati di utenti ma quegli utenti non si collegano perché è un sistema magari solamente di monitoraggio di supervisione in cui sono solamente gli amministratori che possono vedere le informazioni pensate al alla parte del sistema della didattica che contiene i vostri voti voi lì non vi collegate non potete andare a cambiare di voti può fare solo qualche altro utente del sistema che modifica i dati degli studenti la parte che potete vedere voi è completamente sganciata dalla parte dei dati lavora su delle copie quello che vedete voi nel libretto elettronico in realtà è una copia del dato vero che sta da un'altra parte proprio per ragione di sicurezza perché quello ha un valore legale quindi deve essere isolato e gestito in modo separato quindi ricordiamoci sempre e questo ci aiuta di nuovo a rileggere quella frase la sibillina il docente deve inserire il sistema l'elenco degli studenti il docente qua è chi fa l'azione non stiamo parlando dei dati relativi al docente quindi non c'entra niente i dati sul docente col fatto che il docente come persona fa una certa cosa sono due mondi diversi ovviamente si chiamano allo stesso modo che ci confonde un pochino ma dobbiamo fare attenzione durante l'esame i studenti si autenticano verso il sistema quindi vengono studenti come attori non come dati vengono sottoposte una per volta tutte le domande presenti nel compito con relative possibili risposte tutte le domande presenti nel compito con relative possibili risposte è una cosa che so fare perché dato il compito posso ottenere tutte le domande e data ogni domanda posso ottenere tutte le risposte magari ecco letto così una per volta queste domande mi verrebbe voglia di dare un ordine alle domande cosa che non ho qui domanda acquisito disegno eventuale disegno e peso ma non c'è nulla che mi dica questa è la prima questa è la seconda questa è la terza domanda quindi magari mi viene voglia di aggiungere un ordine un attributo di ordine anche qua che mi permette di poter dire la quinta domanda del compito di oggi questo è l'ordine della domanda all'interno del quiz da non confondere con l'ordine della risposta all'interno della domanda che sono due cose diverse queste relazioni sono relazioni che noi leggiamo in senso insiemistico cioè dato un compito questo è una relazione con un insieme perché c'è la molteplicità con un insieme di domande ma matematicamente un insieme è qualcosa di non ordinato non ha un suo ordine quindi in qualche modo le domande verrebbero presentate a casaccio mentre invece se il docente inserisce le domande in un certo modo magari è piacere che vengono presentate esattamente con quell'ordine è un'informazione che devo rappresentare in modo esplicito a maggior ragione questo attributo ordine lo posso inserire qua perché qui ho un 1 perché quella domanda non può essere riusata in quiz diversi se questa domanda dovesse essere usata in quiz diversi non è che posso dire che questa domanda sarà al terzo posto in tutti i quiz in cui viene usata quindi l'ordine diventerà poi separato ma fa parte della relazione tra compito e domanda e quindi magari avrà bisogno di un'identità in più ok quindi fino a qua direi che ciò che stiamo leggendo ci convinciamo di essere capaci a farlo ad estrarlo dal modello concettuale gli studenti possono scegliere la risposta scegliere la risposta nel nostro modello concettuale significa aggiungere un'istanza di relazione qui siamo nel caso semplice in cui basta solamente relazione tra studente e risposta quindi se io studente scelgo la risposta 1001 aggiungerò un'istanza quindi un arco tra il pallino studente e il pallino risposta 1001 e questo sarà sufficiente è possibile rivedere le risposte quindi lo studente a fronte di una certa domanda che ovviamente appartiene al compito a cui è scritto oggi può vedere la risposta che ha dato allora qui mi sto facendo un'interrogazione conoscendo lo studente conoscendo il compito anzi conoscendo la domanda da cui ricavamo il compito e mi chiedo quali sono le risposte possibili no qual è la risposta che ha dato questo studente a questa domanda allora partendo dalla domanda vedo tutte le risposte possibili di queste risposte possibili al massimo una sarà stata fornita dallo studente quindi posso dire tu studente hai dato questa risposta oppure magari non l'hai ancora data eventualmente correggere le risposte precedenti e come faccio per correggere una risposta cancello quella vecchia e ne aggiungo una nuova questa relazione qua è bollente nel senso che se tutto il resto è statico questa cosa qua continua ad aggiungere o togliere man mano che gli studenti lavorano cioè tutto il sistema di quiz lavora tutto su questa relazione qua il resto è relativamente molto più statico alla fine il sistema chiede conferma e memorizza definitivamente le risposte dello studente questo definitivamente per me è abbastanza un rompicapo cosa vuol dire che una risposta è definitiva rispetto a una risposta che invece non è definitiva ma sarà ancora modificabile alla fine alla fine a me sembrano queste informazioni più di processo che di dato cioè a un certo punto tu dirai conferma e non ti sarà più data la possibilità di modificare le informazioni quindi le informazioni che c'erano nel momento in cui hai detto confermo rimangono non le puoi più modificare non riesco a vedere la necessità di dire ma un conto è una risposta e un conto è una risposta definitiva che differenza c'è? è comunque la risposta che mi hai dato se non è definitiva è perché il sistema ti la lascia ancora cambiare però il fatto che una risposta sia definitiva lo capisco dal fatto che quando cerchi di entrare a modificarla il sistema ti dice no non è che un dato può essere non più modificabile quindi io di questa parte qua non aggiungerei nulla nel modello dati perché altrimenti mi dovrei chiedere ma una risposta quando diventa definitiva di quella provvisoria come ne faccio la cancello la tengo sto creando più problemi di quanti dovrei sempre chiederci questa frase ci sta dicendo quali informazioni ho e quindi devo modellarle oppure che cosa faccio con le informazioni che ho quindi magari mi bastano già le informazioni che ho per farci queste cose e al limite quello che mi serve ma di non informazioni di processo è sapere se lo studente sta facendo il quiz se è entrato se è iniziato o se è finito il quiz sono informazioni che potrebbero andare ad arricchire questa relazione iscritto ma eventualmente ci ragioniamo dopo che abbiamo visto l'association class perché sarebbe il modo in cui modellarla poi ecco rimane l'ultimo paragrafo al termine l'esame il docente richiede di nuovo questa è un'azione fatta da qualcuno non c'è nulla da modellare come dati richiede la valutazione cosa fare qua dice che sistema deve permettere una funzione cioè la valutazione ti dice chi è autorizzato a richiedere questa funzionalità il docente ma per ora non ha parlato di dati ha parlato di funzioni e di autorizzazioni di permessi solo il docente lo può fare ma poi che cosa fa la valutazione e poi mi dice cos'è la valutazione calcolare il voto complessivo tenendo conto le risposte corrette del peso relativo alle domande cioè faccio una sommatoria quando il docente lo chiede cosa faccio parto dal compito vado a vedere gli iscritti prendo uno per uno gli iscritti il primo sarà il signor abete che come cognome viene sempre prima c'è anche abaco ma quel giorno è assente il signor abete che risposte ha dato ha dato queste risposte ovviamente vado a considerare solamente le risposte che sono relative alle domande del compito di oggi compito del dato di partenza che ho valuta questo compito qui delle risposte che corrispondono a domande del compito di oggi vado a vedere quali di queste risposte sono la risposta esatta per quelle che sono risposte esatte sommo il peso tengo traccia del peso quindi faccio la sommatoria dell'attributo peso di domanda per tutte le domande dell'appello corrente la cui risposta esatta sia stata fornita dallo studente lo dico più lento muovendomi sul disegno faccio la somma di attributo peso per tutte le domande che siano associate col compito di oggi e questo lo so perché è una relazione univoca in cui la risposta esatta quindi partendo da domanda conosco in modo univoco qual è la risposta esatta e questa risposta esatta deve essere fornita dallo studente che sto valutando in quel momento sarà fornita da tanti studenti questa risposta esatta io mi chiedo se abete ha dato questa risposta o no poi passo la domanda 2 la domanda 2 andrò anche che è la seconda domanda del compito andrò a vedere qual è la sua risposta esatta e andrò a vedere che tra sé tra tutti gli studenti che hanno fornito questa risposta esatta c'è anche abete se sì aggiungo un altro coefficiente c'è un altro valore alla somma che sto facendo quindi valutare significa fare questa operazione significa lavorare estrarre dai dati che già ci sono alla fine devo salvare da qualche parte il risultato di questa sommatoria cioè ho fatto un conto questo conto è semplicemente un valore usa e getta nel senso che ho fatto il conto lo visualizzo e poi me lo dimentico nel senso che non lo salvo da nessuna parte del modello non lo rappresento da nessuna parte del modello oppure lo rappresento da qualche parte scusate fatemi finire non lo rappresento da nessuna parte del modello e quindi la prossima volta che mi servirà di nuovo dovrò di nuovo recalcolarlo vabbè ho consumato un po' di energia termica oppure dopo che l'ho calcolato lo salvo e quindi avrò un'entità valutazione che rappresenta l'esito del processo di valutazione in questo caso secondo me erano possibili entrambe le interpretazioni c'è qualche cosa che mi fa pendere un pochino propendere un pochino dal lato facciamo un'entità che rappresenti la valutazione cioè mi salvo detto in parole povere mi salvo i risultati di questa sommatoria perché quello è il voto che ti ho dato sarebbe poi il voto definitivo ma poi ho la possibilità come docenti di andare a pacioccare i pesi allora mentre paciocco i pesi mi piacerebbe che il voto che era valido un attimo fa rimanesse fermo e poi eventualmente solo quando ricalcolo si aggiorna il voto magari posso fare un ricalcolo vedere solamente come vengono i voti e poi dire salva i pesi nuovi oppure no e quindi tenersi salvati da qualche parte i risultati di una valutazione precedente allora se vogliamo far questo se decidiamo che la valutazione è semplicemente un attributo transitorio cioè qualcosa che posso calcolare al volo tutte le volte che mi serve e non va salvato il modello è finito così senza questa classe valutazione se invece vogliamo salvare separatamente queste valutazioni perché poi magari vuoi che il docente all'orale aggiunge un punto toglie un punto allora quello lì è un dato che è disgiunto dal risultato della sommatoria può essere diverso dal risultato della sommatoria allora lo devo rappresentare allora per rappresentarlo come lo rappresento qual è la natura della valutazione è innanzitutto ha un attributo che è quello importante che è il voto giusto? è il motivo per cui si fa l'esame e vive come relazione tra studente e compito cioè è in relazione con uno studente è in relazione con un compito cioè io ho preso 30 innanzitutto io studente ho preso 30 a quell'esame a quel compito a quell'appello di quel compito si tracciano un po' le figure le frecce allora anche qua la valutazione verso studente è univoca cioè è il 30 diabete che ha preso al corso di geometria o fisica 1 mentre ovviamente quel compito avrà generato molte valutazioni tendenzialmente una valutazione per ogni iscritto al corso e ogni studente avrà ricevuto molte valutazioni una per ciascun compito che è sostenuto quindi questo vuol dire che dal punto di vista operativo nel momento in cui il docente dice valutami i compiti il sistema informativo dovrà fare l'operazione di prima quindi parto dal corso prendo i studenti 1 1 faccio questa sommatoria e il risultato di questa sommatoria lo vado a mettere qua dentro dentro l'attributo voto di un'istanza della classe valutazione neanche comodo volessi fare le statistiche eccetera ho dei dati stabili non devo andare ogni volta a ricalcolarli a partire da Adamo e Eva di nuovo è un po' un compromesso nel senso che parzialmente sto violando il principio che dicevo prima c'è una certa informazione la puoi ottenere in un modo solo qui in teoria per sapere il voto potrei rifarmi il calcolo dei pesi oppure andare a vedere il risultato che mi ero salvato però dall'altro canto c'è il beneficio che questo risultato può essere eventualmente modificato per altre strade per altre vie progettare è un'arte di fare compromessi un passo dopo l'altro il modello perfetto che rispetta tutte le qualità che vorremmo che avesse non riusciremo mai a crearlo la realtà che vogliamo modellare è sempre più complessa del linguaggio che abbiamo per modellarla questo linguaggio ha certe regole in quelle regole riesco a modellare una cosa la realtà è un po' più grossa o un po' più piccola di quello che sto modellando sempre quindi devo trovare un compromesso soddisfacente questo in parte ci diamo delle priorità delle regole da seguire e in parte è proprio progettazione per quello che io insisto sempre del fatto che non è la soluzione questa è una soluzione possibile mi piace so che ci sono alcuni punti critici uno è questo che il voto duplica il modulato di un calcolo l'altro quello che dicevamo lì scritto e le risposte fornite devono essere relativi allo stesso compito se no è sbagliato so che ho introdotto in alcuni punti ho ceduto un pochino al rigore e ho detto ma qui questa informazione qua in qualche modo va gestita l'importante è che mentre progettate in qualche modo sappiate che una certa cosa l'avete decisa è perfetta o è la soluzione giusta o non si poteva fare meglio o non si poteva fare altro che così ad esempio domanda risposta non vedo altro modo che non sia sbagliato chiaramente e altre volte invece dicevo questa qua è una scelta progettuale di cui tra virgolette mi assumo la responsabilità so che non è perfetto ma di meglio non si riusciva a fare con i limiti del linguaggio che ho a disposizione è sempre così dobbiamo farci conti con la realtà ecco ciò che dobbiamo invece sempre evitare questo invece secondo me è sempre evitabile è di ragionare con delle relazioni implicite che siano date dalla corrispondenza di valori cioè dire questo è lo stesso compito perché è nella stessa data questo che ne so lo stesso studente è perché ha la stessa matricola cose di questo genere sono sempre molto pericolose perché un assunto è il fatto che due cose che hanno quel valore sono da trattare come collegate no se c'è un collegamento lo dobbiamo esplicitare sotto forma di relazione perché poi a livello di database le relazioni ci permettono di inserire vincoli di integrità relazionale a livello di modello software di fatto ci aiutano a creare le classi software con cui riusciamo a gestire questi oggetti e quindi è un modo una presa d'atto esplicita di un'informazione non lasciate mai le cose implicite ok per chi ha visto un po' di programmazione anche oltre a base di dati potremmo riconoscere che un modello di questo genere serve a due scopi verso diciamo il basso alla fine queste cose qua dovranno sono delle specifiche per un sistema informativo che si dovrà costruire allora questo innanzitutto serve come formalizzazione del problema noi qua ci siamo posti tante domande nel disegnare questo modello domande che hanno portato a fare delle scelte ci siamo dati delle risposte qualora ci sia un committente vero queste risposte vanno condivise col committente noi abbiamo scelto così abbiamo capito così anche tu avevi in mente questo? molte volte si scopre che ciò che per me è scontato è ovvio che sia così per te è ovvio che sia esattamente contrario quindi questo è uno scopo di documentazione condivisione di informazioni preziosissimo perché se sbagli qua poi tutto il resto poi è in cascata serve come documentazione di progetto per chi dovrà realizzare la base dati da questo passare a un modello di entità relazione passare a tabella SQL è un attimo poi per carità chi farà il database lo andrà a complicare perché deve restire magari più versioni delle stesse cose ma l'informazione è questa e idem per chi dovrà realizzare il software chi ha fatto il corso come l'anno scorso sa che facevamo i Bing che rappresentavano esattamente queste informazioni per cui è possibile ci sono anche dei tool la versione a pagamento di Ashta lo fa da questo modello puoi generare direttamente il codice beh adesso non lo trovo qua perché tanto puoi generare direttamente il codice eseguibile le classi Java che implementano queste classi queste parlando in gergo il Bing relativi a queste a queste entità a questi concetti interpretando le relazioni quindi capendo se questo è un attributo se è una lista quindi mappando mappare queste informazioni sui vari linguaggi di programmazione ok non vi rubo altro tempo oggi ci diamo il tempo di trasferirci all'app per quella prima squadra e comincerete a vedere è già online da questa mattina l'esercizio che vi chiediamo di fare di modellazione